... Sono tanti, sono qui le religie sull'altare, uomini, donne, che come noi, dentro il percorso della vita, non sono stati solo avvolti dal peccato, ma hanno raggiunto la santità e questo è un augurio che condivido con noi tutti. E' vero, caro bellissimo procuratore dell'ordine, di Maria Mita Amaromita, presso la Santa Sede, cari procuratori, religiosi, sacerdoti, fratelli e sorelle, sono molto lieto di celebrare la Divina Liturgia nella solennità di tutti i Santi. Vorrei ringraziare in particolar modo il Procuratore Padre Gesù di Sede che mi ha invitato a essere qui con voi. Vorrei innanzitutto ringraziare il Padre che ha detto la bella parola dell'introduzione, benvenuto, grazie per la felicità. Siamo venuti qui per meditare insieme sul senso della santità e pregare in un spirito di comunione anche per i nostri cari defunti che hanno lasciato questo mondo affinché possiamo godere della visione beatifica di Gesù risolto. . . . Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.